Claudio Lippi, Domenica in, Esperienza mi ha avvilito L'esperienza di Domenica in mi ha avvilito. Mi hanno fortemente voluto nel cast sin dall'inizio, ma dalla prima puntata c'è stato un uso improprio della mia persona e non si è più potuto recuperare. Il progetto con le signore Parodi, Ainoi, è fallito sul nascere così, sul numero di spai in edicola domani, Claudio Lippi fa un bilancio della sua esperienza nel contenitore domenicale di Rai 1. Claudio Lippi, Parodi conduzione asettica Domenica in. Tutto si è concentrato su Cristina, Parodi, NDR, senza però capire a cosa si andasse incontro. Ha un prodotto urlato come Domenica Live, pur condotto con grande maestria e professionalità, si contrapponeva una linea signorile ma senza contenuti. La conduzione della Parodi non è criticabile, ma è stata asettica ed è mancato il coinvolgimento. E non è finita, ho fatto quel che mi è stato chiesto, cioè niente, e ho portato avanti faticosamente la mia inutile presenza. Spesso mi sono chiesto che ci faccio qui. Ho mandato un messaggio alla Parodi sul finale di trasmissione. Le ho detto che non è stato piacevole ignorare la mia presenza, tutti meritano rispetto, io non l'ho riscontrato. Non è una polemica, ma una constatazione. Claudio Lippi, non solo Domenica in, sulle scelte della Rai. Lippi ce l'ha anche con altre scelte della Rai. Leggo che Flavio Insinna farà l'eredità ma per me quel programma, dopo la scomparsa di Frizzi, dovrebbe essere ritirato come il numero 10 di Rivera. Nulla contro Insinna, ma mi sembra un'operazione poco rispettosa di alcune componenti. C'è ancora un universo televisivo che rimpiange una televisione fatta di ironia, educazione e buon gusto. Valori riconosciuti a Fabrizio Frizzi solo dopo la sua morte. Ho fatto fatica, al suo funerale, a non gridare contro certe persone che lo avevano massacrato o ignorato, ma che erano lì. L'ipocrisia di questo mondo si manifesta nelle occasioni più drammatiche. E conclude criticando la decisione di far rivivere programmi storici come Rischia tutto, Portobello, La Corrida. L'esperimento rischia tutto, perché troppo legato alla figura storica di Mike, non mi sembra sia stato un grande successo. Ho paura che Portobello fosse tale solo quando era originale, ma è stato forse il programma più saccheggiato del mondo. Quando c'era la corrida di Corrado non c'era nient'altro che gli assomigliasse. Tra il pubblico c'è la convinzione che corrida vuol dire Corrado, Portobello vuol dire Tortora, Rischia tutto vuol dire Mike, sono troppo riconoscibili. L'universo televisivo è composto da un pubblico per lo più anziano, che ha ricordi ben precisi di quei programmi. Non si fanno prendere in giro da operazioni nostalgia, che ai loro occhi sembrano muffa, pur rimpiangendo quella tv.